Ci sono i cittadini che hanno i pozzi d'acqua privati e quelli che invece utilizzano l'acquedotto diciamo così pubblico. Impressionanti le cifre, 40.000 utenti privati pescano la stessa quantità d'acqua che Etra usa per i suoi 600.000 utenti. Ovvio che così i pozzi privati possono diventare un pericolo per l'equilibrio delle falde, oltre ai tanti pozzi abusivi che sfugono a ogni controllo. I pozzi privati inoltre sono una porta aperta per le sostanze inquinanti e dal momento che prelevano dalla falda litri e litri di acqua in continuo ne influenzano la sicurezza. Ecco perché Etra contrasta il fenomeno dei pozzi privati che comporta un utilizzo sproporzionato dell'acqua e un rischio per le falde e la multi utility ricorda che è obbligatoria l'installazione di dispositivi per la regolazione d'acqua a getto continuo e la denuncia annuale del quantitativo prelevato oltre ad analisi sull'acqua da fare ogni anno a carico dei privati. Ed è sbagliato credere che l'acqua potabile della falda sia più buona di quella del rubinetto. I cittadini che si allacciano all'acquedotto e chiudono il pozzo inoltre possono accedere a uno sconto del 50% dei costi di allacciamento fino a un massimo di 2000 euro.